Allora ragazzi, io prima di comprare i biglietti, entrare in prima partita, fare qualsiasi cosa relativa a questo evento, ho il dovere necessario, anzi strettamente necessario, di ringraziarvi. Perché l'anno scorso ragazzi, ad aprile per Lazio-Nilan mi avete dato 170.000 views, è stata penso la live reaction più vista relativa a quella partita, sì lo so che gran parte è dovuta al gol di Tonali nel recupero e molti sono venuti lì per vedere quello, però dato che il video modestamente l'ho fatto io, voglio, devo ringraziarvi. Sinceramente mi auguro con tutto me stesso che si possano ripetere questi numeri, molto difficile che succeda, però sognare non costa niente, quindi dritti a comprare i biglietti. Biglietto è fatto ragazzi, lindo pulito per lo stadio olimpico, ci vediamo martedì. Direzione stadio olimpico, fa un freddo boia. Già l'ultima volta, era il 24 aprile, avevo quattro maglie, oggi ragazzi c'ho la maglia termica, la maglia d'allenamento, la maglia di gara e il giubbotto, anche perché io non me ne frega un cazzo dove parcheggio, devo andare in anonimato. Fino a che non stiscio il biglietto, devo andare in anonimato, quindi non posso. E comunque adesso che ci penso, quella volta di Tonali è esattamente nove mesi fa. Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio. 24 aprile, 24 gennaio. Ci vediamo allo stadio olimpico. Mezz'ora a piedi, raga, mezz'ora a piedi. Ciao, la dogru, figlio di puttana. Ciao, la dogru, figlio di puttana. Ciao. Ciao, la dogru, figlio di puttana. Ciao, la dogru, figlio di puttana. Grazie a tutti. 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 Dov'è? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.